Ben trovati e ben trovate da Andrea Cartotto per un Cartotto educational unico e necessariamente breve, poiché breve la permanenza all'interno di quella che consideriamo una opera d'arte tra le più belle al mondo, la cappella degli Scrovegni mirabilmente affrescata da Giotto di Bontone e questo ciclo di Giotto con piacere lo racconto e lo narro per chi non ha la possibilità di essere qui perché mi è ammalato o non riesce a visitarla e spero possa visitare questa meraviglia veramente nota a livello mondiale tramite queste mie parole, un intero ciclo affrescato che narra moltissime tappe della vita di Gesù tra cui naturalmente possiamo notare in chiave pasquale come ora stiamo osservando in video la crocifissione di Gesù e anche sopra il battesimo che è una scena insomma poi trattata e affrontata anche da diversi artisti in diverse epoche storiche e quindi Giovanni il Battista ecco sul capo di Gesù pone queste croce, vediamo anche Gesù che come potete osservare porta la sua croce e numerose sono in tal senso le scene che veramente descrivono la sua vita così come questa rappresentazione a tratti se vogliamo anche come dire onirica che mostra le connotazioni dell'inferno, di qui abbiamo la crocefissione, abbiamo gli angeli, gli arcangeli che sorreggono in qualche misura la croce ed al centro, ecco al centro ancora con le mani misericordiose, Gesù che accanto ai discipoli sembra come dominare questo intero ciclo affrescato veramente straordinario. Buona Pasqua, un caro saluto da Andrea Cartotto per Andrea Cartotto Education Pasquale.